Oh, buongiorno, si si, poi dei sforzi che io potevo andare a lavorare, non perché c'era questa cosa. E tu stai occupando? Scusa me, non ti vengono l'ufficio, no? E poi ne vado, poi ne vado? Non ti ci voglio, no? Non ti ci voglio, ti fai. Ti fai il video? Ti fai il video. E io lo metto l'internazionale, che sia, a me di quanto vuoi l'Italia. Tutta Italia, tutta Italia dovete stare. Buongiorno, buongiorno. Più di farina? Sì. E questo è Bertone, non è più di farina. Chi se me la mette pure in mezzo, da fare tutte le cose. Quanto ci vuoi questa, Mike? 20 mila. 30, diciamo 30. Sì, che bella targa che te hai, latina. Sì, diciamo 30.